Sono Stefano Torre della Infonet di Piacenza. Forniamo ai nostri clienti siti internet e facciamo magheggi sui social per renderli più belli. Siccome lo facciamo anche per noi e per me che sono il capo, un po' per volta io sono diventato un piaccione. Da prima, quando uscivo per strada, le donne mi guardavano soltanto in modo insistente ma non fastidioso. Poi hanno cominciato ad avvicinarmi per salutarmi con scuse di ogni genere e per cercare di toccarmi. Oggi mi aggrediscono tentando di strapparmi i brandelli di vestiti da mostrare poi alle amiche e devo sempre girare accompagnato per difendermi. Una mi ha rubato un cappellino che mi aveva regalato l'ornella. Ho saputo che è stato messo all'asta, all'onda. Se anche voi volete diventare piaccioni, parliamone.